Ciao raga, pensavo che fosse sempre nel solito poster. Oggi ho pensato, mentre stavo nel mio angolo privato, perché non fare il secondo episodio di flicker of hope? Ma il mio pc lo porterò nel mondo reale, dove ho il mio aspetto originale. C'era un po' imbaracciante? Vabbè, io direi di andare nel mondo reale. La macchina non ha mai gina, ma poi... Non, non, non era, non era quel gioco che partiva. Sto gioco non ha gli autosalvataggi. Devo rifare tutto da cazzo! Non è precisamente questo il punto in cui ero arrivato l'altra volta, ma siamo lì. Ma dove devo andare? Ma non mi fate questi giochi. Ho sentito... suono... brutto. Siccome so che gli autosalvataggi su questo gioco... Siccome gli autosalvataggi su questo gioco a quanto pare non esistono, e non so nemmeno come salvare in realtà, quindi sia colpa mia sia del gioco, lo devo finire oggi! In questo episodio qua lo devo finire col gioco. Mi sembra che lo sarei definitivamente tolto dalle palle. Poi, per chi non lo sa, c'è questo mostro che... boh, ti vede. Se sei con la candela fuori da questo nascondiglio... No! Allora, c'è un modo che non ho capito nemmeno se funziona in realtà, perché non funziona mai, per non farsi trovare dal mostro, e cioè questo. Lui ti vede la candela e ti insegue, perché lui vuole stare al buio, come tutti i mostri esistenti in questi giochi. Guarda, guarda, è lì. È lì il mostro, dove devo andare io, ma certo! No! So cosa fare. Prendi mio figlio, lui sa che cosa fare. Via, via, oh, vai, 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 via! Checkpoint! No! Stai già già qua, ragazzi, mi consumano se mi colpiscono, e quindi... Aia, aia, aia. No, muoio, 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 perché non so che cazzo fare! È lì che devo andare, l'ho visto ora! Via! Run! Run! Sono vivo e vegeto. Per ora. Mi ha scassato, dove siete tutti? Quelli che mi vogliono uccidere, dove siete? Adesso mai più! Adesso mai più! Uuuuh! Finito il gioco. Siamo proprio negli abissi di questo mondo. Cos'è? Il nascondiglio! Bene! Proviamo! Sì, a quanto pare sì, perché lui non viene qui. Non viene come, invece. Olè, mi rigenero. E ora vado nella regione sicura! Non mi puoi prendere! No? Sì! Sì! È la mia occasione! Via, 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 via! Sì! Io sto andando completamente a caso, non so dove sto andando, ma... Sì! Io non ti guardo più! Io non ti conosco! E me ne vado! Dove è? Allora c'è? Ah! Via! Via! Basta! Basta! Olè! Eh, vabbè! Oh no! Siamo di nuovo aperti! E so già cosa significa questa cosa! Di nuovo il mostro? Esattamente! No! Niccolò c'è! Bene! Ma poi mi serve un punto dove rigenerarmi! Eh! Questa sconsa non mi piace! Molto! Vabbè, certo! È finito? È finito? Beh... Questo episodio è durato... Meno del polizio! Io ero convinto che il gioco dovesse finire con noi! Che andavamo via! E invece tutto sto casino! Per uccidere quella lì! Gioco di me! Come se non avessi giocato! 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 Elیod involves romance!